che prova ancora a riportarsi in avanti sempre con Rinaldi questa volta al cross e prova la spizzata di testa a favorire Simone Puglia che non aggancia bene però palla ancora in avanti con il tiro tentato da parte di Simone Puglia in due tempi palletta palla ancora in avanti eccolo Puglia in zona tiro salvataggio prodigioso poi ancora Puglia Paolo sfortunatissimo eccolo il servizio e arriva il gol di Simone Puglia con l'osso Nars che riesce a conquistarsi il gol del 2 a 1 il gol del vantaggio cercato insistentemente dal numero 9 che per la prestazione fatta se lo merita pure numero 7 avversario alla fine la perde con il tiro tentato da parte di Giovannoni la risposta e poi Simone Puglia che sulla ribattuta fa doppietta personale e 3 a 1 dello Stonars grazie grazie Grazie.